Buongiorno Buongiorno e bentrovati a mattino 6. Oggi, venerdì 10 giugno, si venera Santa Diana Martire. Santa Diana, detta Diana degli Andalò, nacque a Bologna nel 1200, favorì l'insediamento dei Domenicani nella città di Bologna. Con San Domenico di Guzman favorì la fondazione di un monastero femminile nella sua città. Tuttavia, il desiderio espresso da Diana si realizzò solo per mani del successore di San Domenico. Diana, che aveva avuto una esperienza infelice come monaca tra le canonichesse, era infatti stata strappata dal monastero a viva forza dai suoi familiari. In questa casa dominicana poté realizzare il suo desiderio di darsi alla vita religiosa. Divenne così badessa del convento di Sant'Agnese di Bologna, che fondò insieme a Beato Giordano di Sassonia. La sua memoria viene associata a quella di Cecilia di Bologna e di Amata, dopo il ritrovamento nella medesima tomba, presso il monastero di Sant'Agnese, di tre corpi attribuiti alle tre beate. Venne beatificata da Papa Leone XIII l'8 agosto 1888. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le prime pagine dei quotidiani nazionali dal Corriere della Sera. Vediamo in apertura, si parla di politica, Renzi, vediamo la prima pagina, torniamo al Corriere della Sera. Eccoci, Corriere della Sera che apre con Renzi e solo un voto locale, andremo avanti con il cambiamento e ci sarà spazio per ridurre le tasse. L'intervista, il premier, i fischi, normali per chi ci mette la faccia, Verdini, alleato, fin dal 2013. E poi in centropagina, Europei al Via, alle 21, Francia-Romania e il titolo La pace di Parigi tra Pelè e Maradona. In breve vediamo le altre notizie, sì alla normativa sul crack dei rimborsi, fiducia sul decreto banche ed ancora verso il ballottaggio, le tacite intese anti Matteo dai 5 Stelle al centro-destra. Ancora piccole imprese, la fatica di crescere, la grande paura di arrendersi e poi il ricovero, il medico di Berlusconi ha rischiato la vita, Berlusconi subirà un'operazione al cuore. Il retroscena, il mio spirito non si fiacca, ritornerò, ha detto, e poi ancora Silvio Politico e il linguaggio del corpo. Nel taglio basso la super pianta soffoca il mare dei milanesi e in breve ciò che Berlino non può darci, ed è protagonisti, è sulle riforme il rinvio che ci danneggia. Passiamo alla Repubblica, rischiava di morire, bassa politica, Berlusconi sarà operato al cuore, il medico, l'intervento entro una settimana, la sua compagna è più forte e allegro di noi. E poi in centropagina, addio, a lì ci resta la tua libertà, a Lusville pregano tutte le religioni. E poi Renzi, i fischi non mi fermano, Istat 242 mila posti di lavoro in più, Reggeni, Egitto risponda sulle nuove rivelazioni. La piromane seriale non può essere curata, la piromane che ha appunto toccato la città di Firenze. Passiamo al giornale, la salute del Cavaliere Berlusconi ha rischiato di morire, sarà operato al cuore per un'insufficienza cardiaca, aortica. Scusate, il tuo medico, basta, comizi stressanti, l'ex premier, processi e ingiustizie mi hanno fatto ammalare. E in centropagina, il vento è cambiato, commercianti rivolta, fischi a Renzi. E poi ancora, cari romani, vi avviso, la città a 5 stelle è un inferno e il commento, l'articolo 18 non vale per gli statali, le toghe creano cittadini di serie A e B. Nel taglio basso la sentenza su Oliviero Toscani, Veneti ubriaconi, si può dire il razzismo per loro non vale. Poi la denuncia shock dall'Inghilterra, così una ONG italiana copre gli orrori degli scafisti. Passiamo al fatto quotidiano, Renzi coperto di fischi e smentito dal Viminale. Poi ancora Napoli, mezzo PD, è tentato di votare Forza Italia. In centropagina, leggi vergogna, invece di salvare la gente truffata, fanno un altro regalo alle banche. Nel decreto ILVA, condono ai compratori con licenza di inquinare. In breve, poteva morire, Berlusconi sarà operato al cuore, Lite, Marina, Rossi. Poi la trattativa a Stato-mafia, Martelli, Io e Scotti, fatti fuori per il 41 bis. E gli incidenti, il governo sequestra lo scafista sbagliato dal Sudan sul volo dissato. Nel taglio basso, vediamo Giacomello, cucina con gli scienziati. Poi la presentazione del nuovo libro di Michela Murgia e gli europei del 1968. Poveri azzurri, la monetina non vi salva più. Passiamo ancora avanti. Il mattino, Berlusconi poteva morire ancora col Cavaliere che sarà operato al cuore. Poi Renzi, non temo se mi fischiano, il Premier difende gli 80 euro. In centropagina, vediamo, si parla degli europei, i vantaggi di partire, affari spenti. E poi la Cassazione per gli statali vale sempre l'articolo 18. Nel taglio basso napolitano, con Brexit perdono tutti e poi ancora i missili e i soldati italiani in Turchia. La stampa, ballottaggi, Renzi cambia passo, referendum congelato e se perdiamo non lascio. Emiliano, Movimento 5 Stelle, futuri alleati. Le prime idee per il governo delle città, dei grillini, reddito di cittadinanza, bassa grandi opere e servizi nelle periferie. In centropagina, l'attacco al mercato, morte a Tel Aviv, quattro vittime e altrettanti feriti, arrestati due terroristi palestinesi. In trappola, il super boss Rosarno, carabiniere aggredito, spara e ammazza un profugo. Una vita blindata ha trasportato 100.000 persone. E poi si parla del business dei trafficanti di uomini all'interno del quotidiano. E poi il caso Cucchi fu torturato come reggeni. Il PG, ospedale Lager, e chiede 5 condanne. Dalla stampa al tempo, il quotidiano indipendente apre con ecco il dossier sullo stadio della Roma, come quando sarà realizzato, i dettagli, le date, i lavori, la viabilità, l'ultimo progetto, il carteggio finale, 1,7 miliardi di euro di costo. La prima partita si giocherà ad agosto 2019. E in centropagina, la fotonotizia, Silvio Berlusconi, cuore e batticuore, problemi cardiaci per Berlusconi. E rischiato di morire, verrà operato l'Italia in apprensione per l'ex premier. E poi vediamo in breve, ufficiale, giocherà nella Juve, tifosi giallorossi, un pianic così che effetto vi fa. E poi il pareggio a Trapani 1 a 1, il Pescara torna in A, esplode la festa in città. Poi su questo titolo vedremo più nel dettaglio tutto. E ancora la Cassazione sull'articolo 18, i dipendenti statali non sono licenziabili. Nel taglio basso di Pietro il maestro corrotto, Sgarbi pagherà all'ex PM 3.000 euro per una frase sulla grammatica. Dal tempo al libero, l'operazione d'urgenza ha salvato il soldato Silvio. Berlusconi dovrà sottoporsi a un intervento al cuore di 4 ore, almeno un mese di riabilitazione. Il bollettino del medico personale ha rischiato di morire e gli sconsiglio di tornare alla politica attiva. E in centro pagina la Cassa Boldrini porta 33 persone in gita a spese nostre. E ancora i fanulloni protetti per legge. Streno a difesa dello statale, solo per lui resta l'articolo 18. Ancora in breve i mali del doppio turno, inciuci e rese dei conti, peggio delle elezioni, soltanto i ballottaggi. E poi a Roma giochi pericolosi, le Olimpiadi sono la manna dei ladri. Mixer Expo gli abusivi, una gaff al giorno, leva sala di torno, questo l'editoriale all'interno. E poi ancora nel taglio basso, gli avvocati hanno trovato il test che salva Bossetti. Cosa diranno oggi in aula? Le serie tv sono belle ma ammazzano il sesso per quanto riguarda l'articolo sulle videodipendenze. Vediamo da avvenire il fatto, risposte sull'IVA per i figli proposte. Tra fischi e applausi Renzi assicura non aumenterà. E in centropagina lo stoppa i palestinesi, Israele si blinda dopo l'attentato. In centropagina Berlusconi deve operarsi al cuore, basta politica. Il manifesto Renzi, dopo le sconfitte, arrivano anche i fischi. In centropagina si parla degli europei di calcio che debuttano in una Francia nel caos per le proteste contro la riforma del lavoro, trascioperi nei trasporti e cumuli di immondizia nelle strade. Il governo implora i sindacati di sospendere le agitazioni e con gli oligans alle porte c'è l'incubo della figuraccia mondiale. Così titola la fotonotizia nel pallone. L'unità, vediamo qualcosa di sinistra. Primo il lavoro e sono 242 mila gli occupati in più a tempo indeterminato rispetto al 2015. Renzi all'Assemblea Confcommercio, dai fischi agli applausi ai selfie. L'Italia è una ripresa. In centropagina vediamo Grillo Salvini, ai ballottaggi contro l'asse Lega 5 Stelle, Giordano Noi con Giacchetti, l'incultura del populismo, il titolo su Grillo. E poi invece su Salvini, voto di rabbia e di protesta. E poi ancora un titolo su Berlusconi, nel taglio basso ha rischiato di morire Berlusconi operato al cuore. Ed ora vediamo il messaggero, la prima pagina di oggi. Vediamo in apertura il titolo su Berlusconi. Berlusconi malato, bassa politica, il medico dell'ex cavaliere ha rischiato di morire, sarà operato per sostituire valvola aortica. I familiari in pressing stop all'attività di leader, martedì l'intervento di 4 ore al cuore. E poi la fotonotizia, calcio, Francia, la prova fra scioperi e timori. Isis al via l'europeo super blindato in una Parigi soffocata dai rifiuti. La sentenza della Cassazione statale resta alla tutela dell'articolo 18. Scintille Renzi, commercianti, il premier fischiato per gli 80 euro. Il retroscena, quell'assedio che Palazzo Chigi vuole spezzare. Poi l'allarme a fiumicino fatta brillare l'auto di un foreign fighter trovata in parcheggio. Entriamo all'interno del messaggero, quindi in primo piano le condizioni di salute di Silvio Berlusconi che come visto finora sarà operato al cuore. Sostituire la valvola aortica sotto i ferri per 4 ore. E poi ancora in primo piano, politica TV Milan, i nodi irrisolti e lo scontro figli, cerchio magico. Marina a Francesca, troppi sforzi per lui, le figlie di Berlusconi. Adesso basta, ma il Delfino non si intravede il match di Milano. Spartiacqua è sul cedere o tornare in scena. Stallo su Mediaset e calcio. Nel taglio basso, forse taglia nel panico, è Verdini in missione, partito centrista per sfidare la Lega. Entriamo ancora all'interno, le Olimpiadi a Roma, un investimento spinta al reddito e più occupazione. Secondo uno studio del Chase e di Open Ecomunics, soltanto nella capitale, 40 mila nuovi posti e benefici per 3 miliardi. Il caso, il premier in missione a Rio per sostenere la capitale, Malagò, chiunque sarà il sindaco, viste le carte, si convincerà. La Movimento 5 Stelle, Taverna, propongo di posticiparle. Ed ancora l'intervista a Serra, così Barcellona, grazie ai giochi, ha ridato dignità alle sue periferie. Il sindaco che lanciò la candidatura, uscivamo da una dittatura, fu la luce in fondo al tunnel. Roma non perda questa grande chance, abbiamo aperto il centro al mare, rivoluzionato l'intera città. Essenziali, ha detto, sono stati gli accordi stretti tra pubblico e privato, già per preparare il dossier giochi. Renzi, commercianti, duello sugli 80 euro, qualche fischio non mi spaventa, ha detto, contestazioni, poi applausi, quando annuncia che l'IVA non salirà e al Senato incassa la fiducia sulle banche con il voto dei verdiniani. Il caso, quel segnale delle categorie produttive e l'assedio che il premier vuole spezzare. Istat, lavoro, più 242 mila occupati in un anno, grazie a contratti sabili e over 50 anni. Ancora la decisione, licenziamenti per gli statali valgono le tutele dell'articolo 18, sentenza della Cassazione, non si applicano le modifiche introdotte nel 2012 dalla Fornero. Confermata la linea del governo, in caso di provvedimento illegittimo c'è il reintegro. E ancora il provvedimento, intanto per i furbetti del cartellino, arrivano gli allontanamenti lampo nel prossimo Consiglio dei Ministri. Il via libera definitivo al decreto con la sospensione cautelare in 48 ore. Ballottaggi, vediamo il patto con la Lega, spacca Movimento 5 Stelle, mai con la destra. Direttori e lo stesso Grillo frenano, nessun inciucio, ma sul blog si scatena la rivolta. Tensione con Di Maio per una frase di Battista, pronto a candidarmi premier, poi smentita. E la storia, mamma Lombardi, scrisse al preside su carta della Camera, la richiesta di interventi nella scuola romana del figlio. E l'inchiesta nel taglio basso, voti comprati a Napoli, accertamenti su 30 nomi. L'indagine parte dalle intercettazioni della DDA, Bassolino PD nel Baratro, agire in fretta. Vediamo dal mondo la sfida, c'è l'Handos Mattino di Obama, nessuno meglio di Hillary. Questo il titolo, il messaggio pro Clinton, mai qualcuno così qualificato a guidare gli Stati Uniti. E poi la replica onorata di Averti con me verso la convention tutti contro Trump. Ancora le cronache invece, il caso Fiumicino, il giallo dell'auto, era parcheggiata da due mesi nell'area per la lunga sosta, partito per la Siria, l'intervento degli artificieri. L'uomo è un 37enne originario dello Sri Lanka. La guerra, l'Isis in difficoltà. Libia, battaglia finale per Sirte. Poi l'Israele toglie i permessi per il Ramadan, paese blindato dopo l'attentato. E ancora il caso, la guerra tra i professori blocca le inchieste romane. Caos a medicina legale, uno scontro tra i vertici, ostacola, autopsie ed esami tra i processi che rischiano ritardi. Quello per l'omicidio di Luca Barani. E la manifestazione a sei anni dalla rivolta, Rosarno, la protesta dei braccianti. L'inchiesta, morta al Forlalini, indagine per istigazione al suicidio. Pochi giorni prima di essere stroncata da un overdose, la sedicenne annunciò a un'amica l'intenzione di uccidersi. Cronache ancora. Fede, Michela e Alessandra. Alessandra, il folle boom dei femminicidi. Tre donne uccise in 48 ore da compagni gelosi e incapaci di accettare la separazione. L'ultimo episodio, ieri a Verona, maestra elementare, 46enne, assassinata a coltellate. E sono 58 le vittime dall'inizio dell'anno, tutte massacrate dai mariti o dagli ex. I dati allarmanti di telefono rosa. E la Boldrini serve una rivoluzione culturale. Meloni scempio da fermare con la repressione. Pagina dedicata all'economia. In apertura le cifre. L'ANAS dà il via al piano da 20 miliardi. Oggi la di Armani illustra la strategia 2016-2020 che prevede il ritorno di manutenzione e progettazione dentro il gruppo. Il focus sarà sulle opere incompiute e su quelle strategiche per avviare entro la fine dell'anno il matrimonio con ferrovie. E poi infine Govip fondi pensione su 7,2 milioni di aderenti. Il 25% non paga. E con la pagina dedicata all'economia ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Giovanni, allora intanto, innanzitutto sarai contentissimo di avere fatto le ore piccole questa notte, davvero tifoso del Pescara. Beh sì, dopo il risultato di ieri che ha coronato una grandissima stagione della squadra, non potevo non festeggiare insieme alla tanta gente presente in piazza. Sono contento perché il Pescara ha meritato, ha meritato anzi anche di più perché, a luce di quello che ha fatto in campionato, come fosse stata quel periodo un po' negativo che ha fatto perdere i punti a questa squadra, poteva anche essere promossa direttamente in Serie A, ma non fa niente, il Pescara c'è andato lo stesso, ha dimostrato di strameritare questa promozione dopo quel play-off, quella finale dell'anno scorso dove solo la sfortuna, solo la traversa, il palo e la traversa hanno bloccato il Pescara, hanno impietato il Pescara e ritorna in Serie A. Sono contento, adesso mi in bocca al lupo a questa squadra, adesso è il momento di festeggiare Elisa. Invece, ieri per fortuna, ieri sera non ha piovuto, quindi nonostante il pomeriggio ci sia stato maltempo. Le previsioni ho sentito di una apoteosi temporalesca fino alla prossima settimana, ci confermi? Diciamo Elisa che la situazione attuale continua ad essere caratterizzata dall'instabilità. Se nella giornata di ieri ci sono stati violentissimi temporali sulla nostra regione, soprattutto nel Chietino e nel Terramano, nelle prossime ore avremo condizioni iniziali di cielo numeroso, un po' su tutto il territorio regionale, con una temporanea attenuazione della numerosità in mattinata, ma attenzione perché nel corso del pomeriggio torneranno a svilupparsi dei temporali sulle zone interne, sulle zone montuose, con fenomeni poi in estensione, entro il tardo pomeriggio sera, verso il settore orientale e localmente anche verso la fascia costiera. Quindi ancora instabilità, ancora rovesci e possibilità di temporali, soprattutto nella seconda parte della giornata. Poi nella giornata di sabato invece, nella giornata di domani, assisteremo a un temporaneo miglioramento del tempo, soprattutto nella prima parte della giornata, con cielo poco nuvoloso, comunque terreno poco nuvoloso, ma attenzione perché nel pomeriggio sussiste sempre la possibilità di qualche addensamento, qualche annuvolamento sulle zone montuose e localmente ci saranno dei rovesci che stavolta interesseranno probabilmente soprattutto il Terramano, le zone montuose e il Terramano. Attenzione invece poi nella giornata di domenica, perché alla luce dei dati attuali a nostra disposizione, è previsto il transito di una perturbazione proveniente dalla Francia, che favorirà un nuovo aumento di instabilità, in particolar modo nella seconda parte della giornata di domenica, quindi tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio sera, il transito di questo sistema nuvoloso favorirà la formazione di nuovi temporali che torneranno a manifestarsi non solo sulle zone montuose, ma anche sul settore orientale della nostra regione. Quindi una situazione di instabilità che continuerà a lisa anche nei prossimi giorni, anche nei primi giorni della prossima settimana, ma c'è una novità, una novità emersa dagli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, si tratta di un'ipotesi, probabilmente andrà proprio così, ma l'ipotesi prevede una decisa rimonta dell'anticiclone africano che se confermata raggiungerà gran parte delle regioni centro-meridionali a partire da giovedì e nei giorni successivi. Rimonta di alta pressione che, se confermata, darà luogo un deciso sensibile aumento delle temperature anche sulla nostra regione. Si tratta di questa di una proiezione ovviamente che andrà confermata nei prossimi giorni, tuttavia potrebbe esserci un deciso cambio, un deciso miglioramento del tempo a partire da giovedì, ma di questa situazione ne ripareremo diffusamente nel corso dei prossimi giorni. Certo, grazie Giovanni, lo vedremo quindi negli aggiornamenti. Ti auguro buon lavoro e buona giornata. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E come sempre ricordo che oltre al sito internet Abruzzo Meteo potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo oppure attraverso il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande, essere sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria. A tra poco. Seconda parte di Mattino 6, passiamo alle notizie regionali dal centro. Vediamo la prima pagina dedicata alla provincia di Pescara scontata all'apertura. e qui la festa, il centro, il quotidiano dell'Abruzzo apre con l'edizione speciale appunto dedicata alla vittoria e al ritorno del Pescara. In serie A esce fuori, scusate, e poi la prima pagina del centro con esce fuoristrada, una notizia di cronaca, muore a 19 anni, tragedia a Città Sant'Angelo, la vittima è Matteo Piovani di Cappelle nella foto. Poi ancora i profughi a Pescara a ottobre. La prefettura lancia un nuovo bando dopo la rinuncia dell'Holiday. Ed ancora nelle cronache, addio Candeloro, assessore nella giunta Pace. Poi i manifesti funebri contro la Movida. Da oggi a domenica via l'Ironman, la grande festa per 2.000 atleti. Passiamo alla prima pagina del centro dedicata alla provincia di Lanciano, Chieti e Vasto. Vediamo in apertura la prima pagina del centro. In centro riporta la notizia della tragedia, la morte quindi del 19enne, l'auto si ribalta, muore a 19 anni, la tragedia a Città Sant'Angelo, il dolore del papà che lavora a Chieti. In centro pagina il corteo regionale a Lanciano, metalmeccanici in 700 sfilano contro il rinnovo del contratto. In basso Chieti avrà due società di calcio, Pomponi va avanti, la nuova cordata pure, sveliamo i nomi. Nelle cronache vediamo il deposito GPL, Dottavio adesso dice no all'impianto per il pianto al porto. E in Vasto, Menn, al Movimento 5 Stelle, la presidenza del Consiglio, Vasto verso il punto ballottaggio. E nello sport i biancazzurri di Oddo volano in Serie A, Pescara promosso. Vediamo la prima pagina dedicata alla provincia di Teramo. Teramo in apertura dal centro, la notizia dell'agguato a Silvi. Telecamera riprende l'attentatore, in alcune immagini si vede l'uomo senza casco. E poi in centro pagina il Pescara che torna in Serie A, la Padula ringrazia anche Teramo. in Abruzzo, due anni eccezionali, ha detto. In Basso, bollette dell'acqua più care, utenti in fila a Ruzzo, che spiega inserita una cauzione. Nelle cronache parla il Giuliese nella lista Isis, non so perché, ha detto, indaga la Digos. E poi il caso, l'assicurazione è fallita, paga il comune in Martinsicuro e a Roseto di Girolamo e Pavone il voto nelle varie zone a Roseto, anche verso il ballottaggio. Vediamo la prima pagina dedicata all'Aquila, Avezzano e Sulmona. In apertura si parla di auto blu, il processo resta all'Aquila. No alla richiesta del sindaco di Avezzano, in aula spuntano altre accuse. E l'impresa sportiva in centro pagina, pareggio e festa a Trapani. Il Pescara riporta l'Abruzzo in Serie A. Nel taglio basso, auto sbanda, muore a 19 anni. Città Sant'Angelo, il giovane perde la vita, 3 km da casa. Nelle cronache in L'Aquila, giallo bollette, staccato il gas al comune. Ed ancora Sulmona, ecco la mappa del voto nei quartieri. E all'Aquila, mutui sisma, interessi solo su rate bloccate. Passiamo alla prima pagina dedicata, la prima pagina del quotidiano della provincia di Teramo, la città. Vediamo in apertura la prima pagina della città, che apre con, se riusciamo ad aprirlo. Vediamo, quindi, prima pagina della città. Vediamo in apertura, si parla del ritorno, appunto, in Serie A del Pescara. Il titolo, la Padula riporta l'Abruzzo in Serie A, il Pescara basta un pari a Trapani per tornare nell'Olimpo del calcio con l'ex Biancorosso protagonista. E su questo titolo mi fermo, perché già abbiamo atteso troppo per vedere, quindi, anche le immagini della giornata di ieri, della grande festa di questa notte, che in tanti, dove in tanti hanno fatto le ore piccole. Iniziamo dal servizio della partita di Paolo Renzetti. È Serie A strameritata. Giustizia è fatta dopo lo scippo dell'anno scorso alla Dallara di Bologna. Dopo una cavalcata incredibile, il Pescara ha dunque coronato il sogno del ritorno della massima serie, a distanza di quattro anni dalla promozione del Pescara, allora allenato da Zdenek Zeman. Dopo il successo per 2-0 all'Adriatico, i Biancazzurri sono riusciti ad impattare al provinciale per 1-1 e al novantunesimo è scoppiata la festa dei tifosi Biancazzurri sia al provinciale che in città. Il miracolo di Massimo Oddo è diventato dunque realtà. Ora la festa giusta, calda e appassionata. Tra una settimana si inizierà a lavorare e a pensare al futuro e soprattutto al mercato. Si comincia in un clima caldissimo e con un gran tifo sugli spalti, oltre 400 supporters Biancazzurri in Curva Sud. Nel Trapani Cosmi manda in campo una squadra a trazione anteriore con Coronado a centrocampo, ma di fatto a supporto della coppia Citro-Pektovic. Nelle Pescara non scherza Massimo Oddo che preferisce arretrare Ben Ali sulla linea dei centrocampisti, mandando in campo Pasquato dall'inizio al fianco di Caprari e al ridosso di Lapadula. Al quarto, punizione dell'ex romanista e parata a terra di Nicolás. Sul capovolgimento di fronte, Citro tenuto in gioco da Zampano ad andarsene in contropiede e a presentarsi solo davanti a Fiorillo. Per lui è un gioco da ragazzi superare il portiere Biancazzurro e mettere il pallone in rete con un diagonale. Il pescara scioccato dal gol dei padroni di casa reagisce e al nono è Caprari a chiamare alla parata a terra Nicolas che spedisce il pallone poi in calcio d'angolo. I Biancazzurri soffrono la pressione e l'agonismo locale con Eramo pericoloso al quarto d'ora con Fiorillo costretto a smanacciare il pallone. Ancora Trapani al ventesimo con una mischia in area pescarese risolta da Fiorillo e compagni. Al ventottesimo si rivede pericoloso Citro in area Biancazzurra con il pallone che viene poi spedito dai difensori Biancazzurri in calcio d'angolo. Il finale di tempo vede poi al trentaseiesimo un'azione colossale per Lapadula che scarica in area su Nicolas che salva, porta il risultato. Passa qualche istante De Pasquato a mancare un'altra ghiotta opportunità. Al quarantesimo il Pescara poi grida il rigore per un tocco con la mano in area del difensore siciliano Scogliamiglio su colpo di testa di Lapadula e con Maresca di Napoli che ben piazzato lascia incredibilmente proseguire facendo imbestialire giocatori e tifosi biancazzurri. Al quarantatresimo si rivede l'undici trapanese con una punizione di poco allato di Pektovic. L'ultima occasione ancora invece di marca pescarese con un pallonetto di Pasquato che manca ancora il bersaglio. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 in campo anche se al quinto Cerse Cosmi manda in campo Barillà al posto dell'infortunato Fazio. Arriva il dodicesimo e Valerio Verre con Nicolas fuori dalla porta. Si inventa un gol pazzesco da 40 metri mettendo il pallone all'incrocio e facendo scoppiare l'esultanza dei tifosi biancazzurri in curva sud. Il Pescara vede la più vicina. Dopo l'1-1 Oddo richiama in panchina Torreira mandando in campo Bruno per dare maggiore sostanza al centrocampo. I siciliani si scoprono e al ventesimo Lapadura lanciato verso Nicolas viene cinturato da Scognamiglio che prende il rosso per fallo da ultimo uomo. I giocatori e i tifosi del Trapani perdono la testa e in campo piovono bottiglie a ripetizione. Dopo qualche minuto di caos la situazione torna si fa per dire alla calma con Cosmi che tenta il tutto per tutto mandando in campo Ciaramitaro e Montalto al posto di Eramo e Nizetto. Il Trapani si rende poi pericoloso al ventinovesimo con un tiro a lato proprio del neoentrato Ciaramitaro dal limite ma le cartucce dei Granata sono esaurite. I ragazzi di Oddo ci credono sempre di più con Caprari che al trentacinquesimo si divora poi il gol del 2-1 così come accade qualche secondo dopo con un tiro a lato di Ben Ali. Il finale vede il presumibile assalto confuso dei siciliani tra l'altro in inferiorità numerica ma per il Pescara può iniziare la festa giusta e sacrosanta dopo 4 anni per il Delfino e di nuovo Serie A. Questo è l'assunto della gara della partita adesso spazio all'allenatore e al presidente quindi a Oddo e Sebastiani ascoltiamoli. Pescara dice grazie a questa società perché ha programmato comunque delle stagioni importanti ed è arrivata la sesta promozione nel massimo campionato il presidente Sebastiani è l'unico presidente nella storia del Pescara che ha vinto per due volte il campionato di Serie B. Evidentemente non sono così male vabbè ma questa è una soddisfazione che sicuramente mi riempie di gioia ma non è quello che conta. Chi si sente di ringraziare? Qualcuno? Tutti tutti quelli che hanno in particolare qualcuno? Tutti tutti quelli che hanno lavorato insieme a noi in questa stagione tutti quelli che stanno lavorando con il Pescara perché non è che il Pescara si ferma qui o ha avuto un successo e poi magari ci si ferma ci si culla sugli allori noi dobbiamo continuare a lavorare e quelli che stanno nel Pescara continuano a farlo. Quindi io ringrazio veramente tutti quanti dai direttori dai magazzineri tutti tutti quelli che lavorano nel Pescara perché tutti quanti hanno messo un qualcosina. Poi è chiaro in campo ci vanno i ragazzi c'è l'allenatore e a loro va il merito maggiore però senza gruppo ripeto senza un gruppo importante un gruppo di uomini veri non si va da nessuna parte. Il giorno della festa oggi Oddo può dire ai tifosi del Pescara che il prossimo anno sarà lui l'allenatore del Pescara in Serie A? Guardate in questo momento non vedo squadra migliore del Pescara da allenare in Serie A. Sono riuscito assieme al mio staff alla squadra di vincere questo campionato e me lo tengo stretto a patto che si deve capire che ma questo lo faccio per il bene del Pescara si deve capire che la Serie A non è la Serie B non puoi ricostruire come hai fatto in Serie B vendere sì perché c'è l'esigenza di vendere io sul piatto ho messo la perdita di la padula quello ci sta e va bene così sicuro no l'abbiamo messa sul piatto poi se rimane siamo contenti non si sa mai però per quanto riguarda tutti gli altri c'è l'esigenza secondo me di tenerceli stretti anche magari venderli ma devono rimanere qui mi riferisco a Fornasie mi riferisco a Caprari a Memuschai tutta questa gente ossatura importante della squadra ed ora l'autore del gol Valerio Verre porta la firma di Valerio Verre il gol che ha regalato la Serie A al Pescara ma che gol un gol pazzesco Valerio sì un gol bello che è valso anche importante direi per come si era messa la partita quindi contento io contento tutta la squadra per questo traguardo raggiunto adesso andiamo a festeggiare avevi visto il portiere fuori dai pali ci hai provato non hai visto più nulla che è successo? avevo visto il portiere fuori dai pali con la palla che aveva dato a Petkovic poi ha sbagliato il passaggio e non ci ho pensato due volte la prima cosa che ho fatto è calciare in porta fortunatamente è andata sotto al 7 subito dopo il gol hai fatto un gesto come dire che cosa ho fatto sì ho detto sono pazzo mi sembra neanche ricordo perché ne ho fatti solamente due quindi è stata una cosa istintiva e poi quella corsa sfrenata sotto la curva sì era il minimo sotto i nostri tifosi che ci hanno accompagnato e sostenuto per tutta la partita quindi grazie ed ora torniamo al centro all'edizione dedicata a Pescara per vedere all'interno appunto le pagine dedicate a questa vittoria e le foto il Pescara in A così il titolo tutta la città in strada per celebrare l'impresa folla in piazza Salotto la gioia esplode dopo il primo tempo di gelo intanto chiedo a Gianni D'Area o dalla regia si possono mandare anche le immagini girate appunto ieri sera dove possiamo vedere anche la festa che appunto si è svolta in tutta la città fino a tarda notte le quattro inoltrate di questa mattina i tuffi nella nave sfilata la pazza notte della festa un fiume di gente in strada la riviera bloccata fino all'alba la città impazzisce e oggi intanto in comune parata dei giocatori e il sindaco che premierà gli eroi biancazzurri queste quindi le immagini della serata nottata ed ancora nel cuore del tifo la festa è con i fuochi d'artificio lacrime di gioia tra i 5.000 biancazzurri davanti al maxischermo in Viale Pepe neppure il gol subito a freddo frena l'ondata di entusiasmo tra cori e fumogeni e la gioia e il tripudio esplodono al fischio finale ecco le foto della serata e della gioia dei pescaresi e non solo ed ora torniamo al quotidiano della provincia di Teramo la città stavamo in prima pagina quindi con l'apertura dedicata al Pescara in centropagina invece vediamo la fotonotizia Tortoreto Blitz in municipio Fiamme Gialle in comune per l'appalto Scuolabus Scossone nei rapporti comune Team il socio privato è fallito subentra il tribunale di Venezia entriamo all'interno vediamo la pagina dedicata alla regione con il Pescara quindi il titolo la padula riporta l'Abruzzo in serie A al Pescara basta un pareggio per avere la meglio sul Trapani l'ex bianco-rosso protagonista dell'expload vediamo il protagonista grande protagonista della stagione del Pescara l'ex bianco-rosso Gianluca la padula ed ancora andiamo avanti ricerca porte aperte all'istituto nazionale di fisica nucleare detenuti i comunisti Teramani all'Aquila per chiedere la nomina del garante il circolo Sandro Santa Croce martedì sarà davanti all'emiciclo insieme ai familiari dei carcerati e agli ex detenuti andiamo ancora avanti vediamo l'agguato a Silvi il direttore messo sotto stretta sorveglianza Silvi arriva il ris dei carabinieri ma si teme che l'aggressore possa provare ancora a colpire avviate le analisi sull'auto della vittima sullo scooter abbandonato dal giovane sul colpo di pistola che ha raggiunto la portiera nessuna minaccia la vittima sentita a lungo dai carabinieri mai ricevuta alcuna minaccia prima di mercoledì mattina ha detto ed ancora Teramo respinto l'appello sul sequestro e Torre negata la richiesta da 8 milioni per il tribunale corretti i sigilli ad un solo milione per l'inchiesta sulle gomme dei bus confronti vediamo il Fai incontra l'avvocatura ieri il dibattito sulla storia del foro Teramano andiamo ancora avanti la crisi in comune scossone nei rapporti tra comune e Team il 49% del capitale del privato passa ad un nuovo curatore è probabile la sostituzione della Di Ranalli il 51% della Teramo Ambiente ricordiamo è pubblico il 49% è della EnerTech ex Enerambiente società del gruppo Gavioli sotto inchiesta in Calabria e poi vediamo il braccio di ferro negli ultimi mesi si sono inaspriti i rapporti tra sindaco e amministratore delegato della Team nella foto a fianco al sindaco Maurizio Brucchi quindi la Di Ranalli concordato respinto Enertec gestita dalla procura di Catanzaro è fallita gestirla ora sarà il tribunale di Venezia ed ancora verso la protesta bocciata la proposta Tercop per la gara dei parcheggi salva posti di lavoro nel taglio basso la politica dibattito negato su una nuova giunta la minoranza abbandona l'aula il consiglio entra in consiglio entra la De Luca con futuro in prova del fuoco superata per i tre nuovi assessori in question time ancora vediamo interrotta Teramo la strada per Poggio San Vittorino fiumata dai detriti e pericolo frane lungo la strada che sale da Carapollo a causa delle forti piogge vediamo l'ambiente parco Galletti nomina Navarra dopo il via libera dell'anticorruzione Tommaso Navarra quindi è il nuovo presidente del parco del Gran Sasso e Monti della Laga ancora in Teramo sgomberare marciapiede occupato dai Deor e l'ordine impartito dagli uffici comunali ad un bar di Viale Crispi che avrebbe ostruito il passaggio pubblico l'Ateneo il Tar sospende la sanzione disciplinare del professor Moffa sproporzionata la decisione di Unite e poi la formazione la provincia laura esistente con il learning oggi la consegna degli attestati conseguiti da 18 allieve torniamo al messaggero vediamo la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo vediamo se riusciamo eccoci torniamo quindi al messaggero vediamo all'interno della prima pagina dedicata alla regione in apertura vediamoci ecco il il titolo sul Pescara gol pazzesco Pescara in A è tutto verre a Trapani nella finale di ritorno va sotto ma c'entra il pareggio sesta promozione nel gota del calcio in città ansia e tripudio davanti ai maxi schermi poi delirio in centro fuochi d'artificio e festa fino all'alba come abbiamo visto ed ecco le immagini dalla regia grazie a Gianni d'areo e quindi un ricordiamo appunto mentre vediamo le immagini con un gol pazzesco di verre al dodicesimo del secondo tempo il Pescara esce indenne dal provinciale di Trapani 1 a 1 nel finale di ritorno dopo il 2 a 0 ricordiamo dell'andata e conquista la sua sesta promozione in serie A il suggello su un campionato fantastico giocato e vinto con il macchio del bel gioco il delirio davanti appunto ai maxi schermi di piazza Salotto e Viale Pepe poi la torcida i caroselli in centro fino a tardanotte come possiamo vedere quando i tifosi hanno accolto il charter della squadra all'aeroporto e bene andiamo avanti intanto con le notizie ed ora la cronaca strage di sangue muore a 20 anni l'auto impazzita grave la fidanzata la tragedia a Città Sant'Angelo la pioggia fortissima tra le cause del fuoristrada ed ancora vediamo all'interno quindi la tragedia purtroppo nella giornata di ieri a Città Sant'Angelo Marco Piovani muore a 19 anni grave la ragazza come abbiamo detto prima che stava in macchina con lui e poi l'omicidio e fuga ciclista travolto caccia i testimoni domani l'interrogatorio dell'arrestato nel taglio basso si parla di sanità un solo ospedale super lo decide il ministero mascitelli sul piano della regione ci sarà uno studio di fattibilità detto e poi Roma detterà il cronoprogramma prima pagina dedicata a Pescara la movida ha ucciso via Battisti notti agitate addio riposo i residenti in comune con i manifesti funebri per protestare contro la nuova ordinanza sugli orari dei locali nell'incontro con la commissione commercio ribadite le richieste del comitato più controlli e chiusura a Luna e dopo lo sgombero incontro decisivo per il mercato etnico SEL chiede garanzie per i senegalesi in prefettura il vertice comune ferrovie per il tunnel sul web la campagna pro ambulanti e sul mercato etnico sull'articolo che riguarda il mercato etnico ci fermiamo per vedere il contributo video di Alfredo Primante dove appunto interviene SEL per dire la verità sul mercatino etnico ascoltiamo il mercatino etnico è questo l'obiettivo del gruppo consigliare di SEL al comune di Pescara che si era schierato contro la decisione dell'amministrazione di sgomberare l'aria occupata dagli ambulanti senegalesi non sono irregolari nella stragrande maggioranza dicono i consiglieri di SEL che sostengono anche che le maggiori inadempienze nella vicenda mercatino etnico sono proprio da imputare al comune l'aria nella quale insistevano infatti ed adibita a viabilità e non a mercato pertanto anche se muniti di licenze e di iscrizione alla camera di commercio il comune adriatico non poteva esigere tributi né autorizzare quel mercatino l'unica irregolarità da imputare ai senegalesi continuano da SEL era dovuta al fatto che la licenza di ambulante non consente di sostare sempre nello stesso posto intanto proseguono i consiglieri di Sinistra Ecologia e Libertà sta arrivando a conclusione l'iter per l'apertura del terzo tunnel della stazione centrale che accoglierà il nuovo mercatino etnico domani ci sarà l'incontro con il prefetto e con Ferrovie dello Stato per gli ultimi pareri però noi oggi abbiamo pensato di fare questa iniziativa e questa conferenza stampa perché dal giorno dello sgombro oggi abbiamo percepito non solo in città ma sulla stampa o altro dei segnali non proprio buoni rispetto a quanto accaduto abbiamo immaginato che fosse importante come atto di solidarietà nei confronti della comunità senegalese fare una sorta di racconto di davvero quello che c'è quindi una sorta di la verità vi prego sui senegalesi perché si è detto che sono abusivi che non hanno il permesso di soggiorno che sono irregolari tante cose che forse in maniera confusionaria la gente recepisce in un certo modo i cittadini recepiscono in un certo modo noi vogliamo provare con poche slide precise e chiare a spiegare la loro posizione cosa è successo e cosa sta facendo l'amministrazione però era stato proprio il sindaco a parlare di illegalità in quel posto beh in realtà il sindaco ha ripetuto se leggete l'ordinanza noi la citiamo appunto nelle infografiche quanto detto nella commissione della pubblica sicurezza dal prefetto andiamo ancora avanti sempre a pescara i conti in ordine bilancio risanato Alessandrini pensa agli investimenti il consuntivo 2015 si chiude con un attivo di 16 milioni primo effetto entro giugno il comune pagherà tutti i creditori il protagonista l'addio a Lucio Candeloro l'assessore delle cento battaglie per il cemento pagina dedicata all'Aquila vediamo in apertura quartiere Banca d'Italia via al piano di restyling ecco il progetto si parte con la vendita delle palazzine del governatore un milione di euro per illuminazione parcheggi aree verdi e centrali termiche la città del futuro parco urbano a piazza d'armi firmato il contratto con l'impresa e poi ancora l'indagine il falso cieco aveva provato a chiedere nuove indennità poi l'annuncio parco granzasso l'arrivo di Navarra come presidente nel taglio basso la truffa fondi giovanardi il danno monta a 2,4 milioni imprese etenei nasce la rete della ricerca nella sede dei laboratori del Gran Sasso primo open day voluto dalla regione all'interno vediamo Avezzano via Roma ecco come cambia la viabilità grazie al popolo web l'assessore stati sarà possibile migliorare i collegamenti con il popoloso quartiere di Borgo Angizia via a luglio sul Mona nuovo progetto autostrade Toto scoppia la bufera contro D'Alfonso e in breve sempre a sul Mona la Casini niente apparentamenti pagina dedicata a Chieti all'asl scoppia il caso di Pietro esposto denuncia a due procure Febbo attacca non ha i requisiti sono pronto a chiedere i danni il DG Flacco ci sono pareri legati abbiamo fatto il nostro dovere e ad Ortona deposito di GPL il no del sindaco la gente teme per incolumità a vasto donna nel mirino auto in fiamme e il quarto attentato e poi il blitz coltivava marihuana nell'abitazione 48enne finisce dietro le sbarre vasto al ballottaggio menna offre alla grillina ceri la presidenza del consiglio lanciano invece ballottaggio alleanze e tutto il gruppo a decidere andiamo ancora avanti pagina dedicata a Teramo vediamo la politica il caso Tercop e Brucchi Terlo posizione abbandona nel question time il sindaco non risponde sulle scelte effettuate respinta alla richiesta di dissesto siamo come tante altre città detto il primo cittadino e poi tribunale accusa il primario patteggia un mese poi l'agguato attentato a presutti ris studiano lo scooter l'inchiesta la finanza in comune per l'appalto fratarcangeli nel taglio basso il tributo i giardini di via milli intitolati a pannella vediamo a Giulia Nova pullman bloccato ore d'inferno l'auto articolato si rompe sulla statale adriatica traffico in tilt fino a Tortoreto e Colonia Spiaggia quasi in tentativo di rimetterlo in moto alla fine viene rimorchiato ma solo dopo due ore a Roseto Pavone di Girolamo ripartiamo da 0 a 0 resta l'incognita dei voti Ciancaione dove confluiranno Martinsicuro minaccia di morte la ex e l'amica barista nei guai passiamo adesso alla pagina sportiva Abruzzo Sport anche se abbiamo visto appunto le immagini del Pescara vediamo la prima pagina di Abruzzo Sport che titola Pescara bentornato in A un gol di Verre dopo una durissima battaglia a Trapani regala ai Biancazzurri la promozione mezz'ora di grande sofferenza poi i Biancazzurri si riprendono e coronano una stagione stupenda prima le tensioni così nel sommario dopo l'espulsione di Scognamiglio poi un bel finale con Cosmi in lacrime consolato da Oddo e le pagelle vediamo la riscossa comincia da Caprari e Pasquato ancora avanti Sebastiani io in questa promozione ci ho sempre creduto l'abbiamo sentito prima nel contributo video da tre anni il mister si era dimesso a Terni gli ho detto calma andiamo in A rivivo al contrario la delusione a Bologna e ora tutti uniti queste le dichiarazioni le altre dichiarazioni appunto del patron e poi ancora Trapani più bella di Berlino Oddo emozione più forte dei mondiali la serie A è ampiamente meritata vediamo ancora il bomber la padula mercato penso solo a festeggiare ha detto e poi protagonisti Pasquato dovevo vendicare l'anno scorso Torreira una famiglia Zampano festa doppia Campagnaro da veterano emozione incredibile non era per niente scontata ha detto appunto ed ancora avanti vediamo il tecnico Oddo la vittoria dello stile anche lui abbiamo ascoltato nel contributo video la sua prima stagione su una panchina professionistica ha compiuto un capolavoro di tecnica e di intelligenza calcistica la scelta della qualità il lavoro sulla mentalità la personalità ha dato un'identità alla squadra come solo i grandi sanno fare ha vinto col sorriso ma ha saputo usare il pugno duro grande comunicatore che è riuscito a migliorarsi sempre vediamo ancora questa la foto della festa il cannoniere poi ancora in basso la padula il bomber 30 e l'ode sono i gol appunto di questo campionato da Luca alla padula nella foto capo cannoniere della serie B ha fatto impazzire l'adriatico con le sue prodezze adesso mezza Italia se lo contende a suon di milioni e vediamo ancora avanti quindi esplode la città questa la foto della appunto della serata di ieri e dei festeggiamenti in piazza incredibile ma verre è la piazza impazzisce gelo sofferenza gioia i sentimenti dei tifosi davanti ai maxi schermi in piazza salotto e al porto turistico i 90 minuti più lunghi dell'anno vediamo ancora sei forte come un battaglione lo storico inno dalla carica ai biancazzurri durante la diretta e con questa notizia ci termina la nostra rassegna stampa intanto poi ci occuperemo anche della vittoria della Pescara durante l'edizione del TG6 grazie per l'attenzione mattino 6 torna domani puntuale alle ore 7 per l'attenzione attra Grazie a tutti.